All'insegna del Battiloro, dove i pazienti e pratici operai che hanno il compito di ridurre le verghe del più nobile e maleabile fra i metalli a sfoglie così sottili che ne occorrerebbero circa 100.000 per fare lo spessore di un centimetro stanno per essere sostituiti da una macchina perfezionata che svolge con la dovuta precisione il delicato lavoro. I fogli attraverso i quali si può vedere la luce tanto sono sottili vengono preparati in libretti a disposizione dei doratori, oltre che per la doratura di cornici e mobilia le sfoglie vengono adoperate anche per opere di il gran mole come statue e cupole.